Ripeto a tutti, stiamo uniti! Oggi è il tempo della responsabilità. Che il Signore sia con te. Allora, un mito moro! Rosse! Rosse! Brigate Rosse! Le Brigate Rosse esistono e sono qui dentro e sono fuori e sono dappertutto. Frida si è uccido. Io scrivo a voi, uomini delle Brigate Rosse, restituite alla libertà l'onorevole Alto Moro. Io voglio urlare! Voglio urlare! Papà è ancora vivo! Che cosa c'è di folle nel non voler morire?